Tintoretto, pittore religioso per eccellenza, ci ha lasciato anche alcune splendide immagini di pittura profana, dalla Susanna e Vecchioni dei musei di Vienna al Venere, Vulcano e Marte di Monaco, un'opera assolutamente suadente e ironica che si connota come uno dei capolavori del genere per il Cinquecento Veneto e Italiano in senso più generale. Perché è una straordinaria messa in scena quasi da commedia dell'arte in cui ogni protagonista ha un suo ruolo ben preciso all'interno di una scatola architettonica, una macchina realmente teatrale. E' il momento in cui Apollo, il Dio del Sole, qui rappresentato dal vaso trasparente attraverso cui filtra la luce, ha avvisato Vulcano di correre dalla sua fucina che vediamo sullo sfondo di destra, tornare rapido a casa perché si sta consumando un amore. L'amore è l'amore tra Venere e Marte, una Venere che vediamo qui affrontata dal anziano Vulcano che ne ispeziona le parti intime e un ideale femminile squisitamente moderno, questo corpo lungo, affusolato, in una scena a cui assiste il cupido addormentato, ma in realtà lo capiamo dagli occhietti, sta guatando. Una scena che si svolge tutto all'interno della camera di una cortigiana del tempo, la riconosciamo per questo letto dorato, ma l'ironia dov'è? E' tutta in Marte, quel Marte che è fuggito, terrorizzato dall'arrivo del marito e non ha fatto di meglio che nascondersi al di sotto di un tavolo, ma verrà spesso smascherato da questo cagnolino che arriva abbaiando e guaendo e che presto farà capire a Vulcano dove in realtà deve guardare. Dietro un'opera come questa vediamo quindi la capacità di Tintoretto di raccontare le storie degli dei con levità e ironia e capiamo anche il suo modo di lavorare a partire da questi teatrini in cui collocava dei manichini di cero terracotta per costruire e strutturare la scena che poi avrebbe realizzato pittoricamente. Per un dipinto che, caso molto raro in Tintoretto, ha anche un disegno preparatorio e che soprattutto prosegue nel dialogo dell'artista con la scultura perché se osserviamo lo sfondo vediamo un bellissimo specchio uno specchio che ci mostra le spalle di Vulcano, le terga di Venere quindi ci mostra come anche la pittura può essere tridimensionale può essere vista a tutto tondo così come la scultura.